Sì, siamo molto contenti noi di riconsegnare il Masetti alla comunità. Questa è una sala della comunità che torna alla comunità. Sono state fatte apportate delle migliorie, speriamo che piazzano alla popolazione. Noi vi aspettiamo da domenica alle 18 per continuare in quella che è questa avventura, che è iniziata come avventura e poi è finita in un progetto. Il progetto appunto della riqualificazione del Masetti. Ovviamente dalle immagini si vedranno, sono nuove poltrone, uno schermo più bello, delle piccole criticità dall'impianto di riscaldamento, sarà una sala confortevole, comoda, in cui si vedranno dei bei film, questo lo speriamo. La programmazione alla quale noi andremo incontro andrà verso la linea della trasversalità, cercando di accontentare quanti più target possibili.